Stage di Qualità, un progetto giunto alla dodicesima edizione. Nato dal confronto tra Informa Giovani e Assessorato delle Politiche Giovanili del Comune di Biella, il Centro per l'Impiego, ed è stato riproposto negli anni successivi, grazie alla collaborazione di numerosi enti biellesi. È apprezzato sul territorio e rappresenta un efficace modello di incontro tra le esigenze del mondo dell'impresa e dei giovani, con alta formazione alla ricerca di opportunità di lavoro. Le finalità, offrire ai giovani l'opportunità di effettuare un tirocinio in aziende biellesi disposte a sviluppare un progetto formativo di qualità, per accrescere le loro competenze e sperimentare percorsi innovativi che permettano di investire sul nostro territorio le professionalità acquisite. Al tempo stesso, dare modo alle istituzioni di svolgere un ruolo di mediazione tra la domanda e l'offerta di lavoro, di concorrere a realizzare politiche attive di investimento sui giovani. Inoltre, di offrire alle aziende l'opportunità di sperimentare nuove strategie di sviluppo delle risorse umane. I punti di forza tra le esigenze delle aziende e dei giovani laureati alla ricerca di occupazione e la selezione dei profili ricercati dalle aziende, tenendo conto delle loro esigenze, ma cercando di diversificare le opportunità. Ed ancora, il progetto ha in questi anni incoraggiato le aziende, anche quelle che non avevano mai attivato un tirocinio, a sperimentare l'esperienza. Le associazioni datoriali collaborano all'organizzazione informando e supportando le aziende associate, che quest'anno ha dato la possibilità a 17 ragazzi di svolgere uno stage di qualità.